Facciamo un passo indietro, non è la prima volta che hai deciso di sbarcare qui su YouTube, infatti come alcuni di voi avranno potuto notare c'era già un video di ben 4 anni fa, come alcuni di voi sapranno io ho avuto diverse esperienze su questo canale, l'ho riaperto all'incirca 2 volte con questa 3, però ho messo tutti gli altri video privati, ci tenevo a lasciare questo video, perché era un video a cui tenevo particolarmente, ma ho deciso di ricominciare a modo mio, voglio che questo canale sia un diario di bordo, dove metterò tutto quello che mi pare e quando mi pare, gameplay, gustate, argomentazioni varie, anime, ma tutto quello che mi pare, quando e dove mi pare. Questa è la mia ennesima risata, questa è la mia ennesima rinascita, beh, divertitevi, ma non troppo, non voglio mandarmi all'ospedale, specialmente l'altro. Forse l'ho riaperto perché mi annoio.